Quest'anno il livello più alto toccato all'inizio di novembre era inferiore alla media più bassa degli ultimi vent'anni. Il dato sul livello delle falde acquifere in Veneto la dice lunga sulla situazione idrica regionale con un deficit che spaventa e se l'anno appena concluso è stato difficile per la siccità e le elevate temperature, il 2023 si annuncia dal punto di vista idrico ancor più complesso con all'orizzonte l'ipotesi di un conflitto tra attività per l'utilizzo di risorse idriche sempre più scarse. Potrebbe creare conflitti tra l'idro potabile, per esempio l'agricoltura, l'energetico, l'industria. Quando l'acqua è poca, è poca per tutti e questo potrebbe innescare situazioni sgradevoli che non eravamo abituati ad affrontare. Una situazione di deficit idrico estesa a tutto il paese, pioggia e neve non riescono più a sanare il deficit dell'Italia, annuncia l'ambinazionale. Gli esempi più emblematici sono i laghi, tutti sotto la media. Si confida in precipitazioni nevose che poi possano rimpinguare la già minima riserva, ma le previsioni sono allarmistiche, tanto da sollevare preoccupazione sulla disponibilità di acqua potabile. Se perdura il livello della presenza dell'acqua nelle falde, crei determini difficoltà agli acquedotti per l'attingimento e quindi per l'approvvigionamento potabile, la necessità umana, insomma ecco, questa è una delle preoccupazioni. Grazie.